Ciao a tutti quanti, sono sempre qui con Gaudí, un bellissimo Gaudenzio e siamo sul la bellissima Oasis of the Seas with Royal Caribbean e siamo contentissimi di essere qua in questo posto. In questo momento siamo a Central Park. Questa nave è un sogno, è veramente bello. Allora cominciamo adesso a fare un piccolo allenamento insieme. Mettiamo le mani giù. 4, 3, 2, 1. Continuiamo. E 4, 3, 2, 1. E 4, 3, 2. E diamoci un piccolo recupero. Busto davanti, lavoriamo sui talloni e facciamo squat seduti. Ok, andiamo su, sfiori ma non risiedi, ok? 4, 5, così. Se ti stanchi ti vuoi sedere, ma io e Gaudenzio non vogliamo sederci ancora. Continui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. 8, tutti quanti giù, ritorniamo sulle braccia, siamo, ci stacchiamo, spalle indietro e andiamo a filo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 4, 3, 2, e ancora 4 e 4, 3, 2 e in su. E adesso torniamo a altre serie di squat. Siamo pronti? Eccoci qua. Vai, dobbiamo fare 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 4, 4, 3, 2 e siamo a seconda serie. Scendiamo giù. Terza serie per i nostri tricipiti, le nostre gambe. Siamo pronti? Stacchiamoci, spalle indietro e scendiamo. 1, 2, 4, 5, 6. Vengiamo ancora più complicato. Facciamo 8 con una gamba su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Torno indietro. Ottimo, 12. Siamo pronti insieme? 12. Siamo pronti? Cominciamo, ok? 1, 2, 3, 4, 5, manca soltanto 6. 5, 4, 3, 2 e stop. Bravissime ragazzi. Io e Gaudenzi siamo qua, veniva un po' di sole sull'Oasis di Royal Caribbean. Ragazzi, è un navide sogno e quando arriverete il prossimo anno starete un po' più in forma con questo piccolo nemesso. Ci vediamo alla prossima. Ciao.